ciao ragazzi ben ritrovati questa sera siamo a fare un aperitivo assolutamente da non perdere con panorama dove siamo dove vi ho portato vi ho portato al sessantatresimo piano del dell'hotel leboa l'hotel leboa è tra l'altro l'hotel dove è stato girato il secondo episodio parte del secondo alcune scene del secondo episodio di una notte da leone da qua su si vede un panorama bellissimo sulla città degli angeli perché anche banto la chiamano la città degli angeli la città delle luci è meraviglioso il panorama quello che vedete ora siamo una terrazza al sessantatresimo piano non so se qualcuno lo riconosce ad ogni modo questo è è il set dove è stato girato appunto alcune scene del film come si arriva dove siamo siamo nel quartiere di silom l'hotel è il leboa è un hotel abbastanza chic ora io non vengo qua tutte le sere assolutamente però se venite a bangkok non dovete assolutamente perdervi l'occasione di fare un aperitivo con vista mozzafiato sulla città guardate le luci che tappeto di luci un aperitivo un cocktail costa sui tra i 600 e i 700 baht 15 euro scarsi quindi non è che andiamo in qualcuna delle nostre città italiane a volte forse paghiamo anche qualcosa di più ma ne vale la pena assolutamente vi ricordo l'unica cosa perché magari fate strada prendete un taxi dal centro sono arrivato quindi dalla zona di kohsam road sono arrivato con una corsa in taxi 75 baht quindi nemmeno 2 euro se gli dite al tassista portami al leboa tutti sanno dov'è assolutamente venite assolutamente arrivate nella grande hall ci sono delle hostess che vi chiederanno se siete per cena o solo per bere qualcosa dite assolutamente che siete per cena scusate no per cena vi costerà l'occhio della testa scherzetto che siete per fare un drink allo sky bar si chiama sky bar e poi salite al 63esimo piano dove vi attenderanno altre hostess che con estrema gentilezza e cura vi porteranno fino al al vostro tavolo e mi raccomando siccome avrete fatto tanta strada stavo dicendo non venite assolutamente in ciabatte qui c'è un dress code quindi dovete presentarvi con pantaloni lunghi scarpa chiusa va bene anche una scarpata ginnastica e una maglietta mezze maniche non in canottiera o in infradito per le signorine va bene anche un sandalo chiuso senza problemi bene qui dal sky bar dell'eboa hotel vi saluto vi do appuntamento al prossimo video nella serie bangkok way un caro saluto e buon continuamento di serata